Man, forse ti è arrivato al concetto sbagliato, hai capito male, adesso sono incastrato a scrivere lettere dall'oggetto obbligato col dubbio che il problema qui forse non sono io, no diamolo per scontato con questa storia dell'essere consapevole, non sapevo che gli avrei dato impressione di essere un debole parlo di vita e delle sue regole, non capendole sempre o contravvenendole nel mente vita che stringe i suoi legacci quando finge che ormai sta per liberarci vita che ci fa come coriandoli messi nei suoi palmi e aspetta il momento per lanciarci questa è la mia catarsi, il mio paracadute per salvarmi quando viaggio a viveri scarsi me l'ha donato Dio e resta mio finché non viene a confidarmi che lui non esiste, hanno ragione tutti gli altri e se ne va un altro giorno in cui ho la responsabilità di risvegliarvi, non sempre ho l'abilità di sopportare la vostra labilità, se non sapete che fare coi vostri sbagli qualcosa di diverso, se non capite questo vuol dire che ho lasciato l'universo vuol dire che ho trovato il mezzo e che siete in ritardo e vi tocca fare presto qualcosa di diverso vuol dire che ho lasciato l'universo, vuol dire che ho trovato il mezzo per raggiungervi o vi accontentate del resto va così quando il sinco per battito va così quando il sinco per battito va così quando lo vedi fuori sin col battito come spostato di un attimo ho chiaro in mente cosa vuol dire uscire indipendente ho fatto sempre solo, non sono tagliato per le marchette del mio ambiente l'ho detto nel 2000 che guardo l'uomo e non le talghette valgo ciò che scrivo, sono ciò che ascolto perché è quello il suono da cui derivo fatto per rimanere prime, nere come il buio nel quale butto luce a sfere da 26 primavere musica riflessiva basata su una serie di immagini così espressiva che vi costringe a vedere così esplicativa che mette a sedere chi prima non la capiva io vi ho ascoltato e riascoltato ed ho ascoltato ancora per darmi prova che non sono inadeguato ho fatto presto l'equazione musica liberazione la vostra è una prigione da cui sono scappato si chiede a chi ha masticato di popio sono come Rakim, man, hey, no joke con questa storia che i buoni non vinceranno a noi non ci convinceranno e va così quando il sincope il battito va così quando il sincope il battito va così, lo vedi fuori sinco il battito è come spostato di un attimo e va così quando il sincope il battito va così quando il sincope il battito va così, lo vedi fuori sinco il battito è come spostato di un attimo do qualcosa di diverso se non capite questo vuol dire che ho lasciato l'universo vuol dire che ho trovato il mezzo è che siete in ritardo e vi tocca fare presto qualcosa di diverso vuol dire che ho lasciato l'universo vuol dire che o trovate il mezzo per raggiungermi o vi accontentate del resto